Rifiuti pericolosi nei cassonetti finisce pure materiale esplosivo. Furgone divorato dalle fiamme, panico in strada a Montefeltro. Poliziotta salva detenuta dal suicidio nel carcere di Villa Fastingi. Lota al degrado, si ripulisce il cimitero degli animali. Via Passeri, pronta alla seconda edizione di Cali City. Buona serata, ben ritrovati su Rossini TV, canale 80 e benvenuti anche a coloro che ci stanno seguendo in streaming sul nostro sito rossinitv.it oppure in diretta dalla nostra pagina Facebook in questa prima edizione delle 19.40 che poi andrà replicata alle 20.40. Oggi è martedì 7 giugno e apriamo questa edizione con una segnalazione che è arrivata proprio a Rossini TV, quella che arriva, è arrivata oggi da Marche Multiservizi e denuncia attraverso la nostra emittente televisiva il ritrovamento di materiali potenzialmente esplosivi nei cassonetti e i gravi rischi di questo dissennato comportamento. E allora abbiamo deciso di interpellare, di intervistare Franco Macor che è direttore della funzione ambiente di Marche Multiservizi. Vediamo. Abbiamo ritrovato all'interno del processo di trattamento meccanico presso la discarica, cioè il trattamento obbligatorio che viene fatto su tutti i rifiuti indifferenziati prima del loro smaltimento in discarica, un kit di razzi di segnalazione, razzi periotecnici che si usano da tutte le imbarcazioni, che siano imbarcazioni da pesca o da riporto. Sono oggetti pericolosi in quanto esplosivi e in quanto con possibilità di dare fuoco che in un cassonetto durante la raccolta e nella fase di smaltimento finale possono ingenerare esplosioni accidentali o incendi che si potrebbero rivelare molto pericolosi per i cittadini e per l'ambiente. Per chi non fosse a conoscenza a questo punto, visto per come hanno anche aggettato questo tipo di rifiuto, qual è la soluzione? La soluzione è rivolgersi a chi dove si acquistano quelli nuovi si possono conferire gratuitamente quelli vecchi. Come tutti i sistemi di gestione dei rifiuti ormai da qualche anno in tutta Europa, esiste la responsabilità condivisa del produttore, produttore o distributore, cioè chi mette comunque sul mercato, si deve preoccupare della raccolta dell'usato. Questo vale per i RAI, vale per le batterie, vale per gli oli minerali, vale per qualsiasi bene. Ancora più logico e soprattutto corretto per tutte le persone di convivenza civile è la corretta gestione di oggetti che sono pericolosi. È comunque un rifiuto esplosivo, può esplodere dentro il cassonetto mentre una signora o un bambino gettano altri rifiuti e può esplodere dentro il mezzo di raccolta perché i nostri mezzi hanno delle pale che comprimono e come poi si può vedere, ne faccio vedere uno per dimostrare il rischio, questo è stato compresso, non è esploso ma ha una potenziale pericolosità insita e soprattutto alla fine, e devo ringraziare l'attenzione degli operatori della discarica, durante le fasi di preparazione del rifiuto prima del suo smaltimento si sono accorti che dalla busta, dal sacchetto sono fuoriusciti questi materiali e sono riusciti ad isolarli. Abbiamo visto che il giro di raccolta era un giro dei rifiuti indifferenziati nei cassonetti della zona mare, zona porto e della città di Pesaro, ci siamo preoccupati anche perché non è la prima volta che questo succede, quindi massima attenzione, rivolgetevi ai rivenditori, esiste un consorzio che è il Consorzio di Gestione Pirotecnici che fa questo di attività senza fine di lucro e del tutto gratuitamente, quindi basta informarsi e agire nel rispetto delle regole e nella correttezza degli altri. Ed ora cambiamo argomento, ci sono stati dei veri e propri attimi di panico questa mattina poco prima delle 11 quando un furgone con cella frigorifera in transito a Pesaro su strada del Monte Feltro ha preso fuoco non lontano dall'ex quartiere fieristico di Campanara. Il conducente del mezzo si stava dirigendo verso il casello autostradale quando per cause in via d'accertamento è scaturito un incendio dal vano motore. Accostato il mezzo a bordo strada sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo e hanno messo in sicurezza sia il mezzo che la strada. Ed ora una notizia che arriva dal carcere di Villa Fastigi di Pesaro dove solo grazie al tempestivo intervento della polizia penitenziaria si è impedito ieri sera che una detenuta si togliesse la vita. La donna in questione ha tentato il suicidio mediante impiccamento utilizzando una vestaglia ma una giovane poliziotta penitenziaria è intervenuta sottraendo la detenuta dall'insano gesto. Ed ora torniamo ad occuparci dei servizi per i nostri amici animali in modo particolare gli animali domestici e in particolare del cimitero dei cani e dei gatti di Santa Veneranda Pesaro che dopo tanti mesi di abbandono e trascuratezza ha iniziato oggi un'opera di riqualificazione per tornare ad essere accessibile. In questa mattinata di martedì 7 giugno Rossini TV accende le sue telecamere in un luogo molto particolare della città il cimitero degli animali a Tiguo al canile e al gattile di Santa Veneranda cimitero che viveva una situazione di degrado e di trascuratezza che durava da tanti tanti mesi. In questa giornata invece il comune è intervenuto assieme a operatori e cantonieri di Marche Multiservizi con sei uomini che stanno ripulendo completamente tutta quest'area dalla vegetazione selvaggia. Un intervento di ripulitura per ridare dignità a questo luogo davvero ampio in cui ci sono centinaia di tombe di cani e gatti di pesaresi un luogo che era diventato praticamente inaccessibile questa mattina l'erba era praticamente alta un metro e mezzo due in alcune situazioni mancava totalmente una cura del verde oggi si è intervenuto in questo tipo di manutenzione e ne abbiamo parlato con l'assessore comunale Enzo Belloni che abbiamo incontrato a tal proposito. Canile e gattile, quest'area qui dovrebbero passare da qui a qualche mese in gestione ad Aspes e nel frattempo ci siamo attivati assieme al lavoro dei cantonieri di quartiere abbiamo messo sei persone in campo questa mattina per iniziare un lavoro importante di ripulitura che non dovrà essere il lavoro di oggi e poi basta ci impegneremo insomma da qui in avanti finché non ci sarà una gestione ben definita di mantenerlo e manutenerlo visto che qui riposano insomma quelli che sono stati gli amici di una vita di tante persone Oggi è un intervento, una tantum per andare a effettuare un intervento straordinario su una situazione divenuta insostenibile però servirà una programmazione ad esempio manca ancora un criterio preciso per la gestione di questi luoghi per questi servizi degli animali d'affezione che sulla carta dovrebbero passare dalla comune e dai volontari al quale il comune ha affidato i servizi dovrebbero passare a Aspes ancora sarà così per tutto il 2022 ma poi questo passaggio andrà effettuato e a tal proposito con l'intervento di oggi chi ha un animale sepolto in questo luogo può venire a trovarlo ma è ancora tutto da strutturare la possibilità di poter effettuare nuove sepolture in questo cimitero così come mancano tante altre cose ad esempio un catasto degli animali sepolti questa è una cosa che dovremmo andare a valutare assieme all'assessore all'ambiente con l'assessore all'ambiente peraltro abbiamo condiviso questo intervento e poi vedremo in futuro quali saranno gli spazi da dedicare a chi ama gli animali il porto di pesaro avrà la sua vasca di colmata lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli nel corso dei lavori dell'assemblea legislativa delle Marche Baldelli ha annunciato lo stanziamento di fondi per 11 milioni e mezzo di euro destinati alla realizzazione della vasca di colmata e all'elettrificazione delle banchine la vasca di colmata sarà una struttura preliminare alle operazioni di dragaggio che aumenteranno la profondità del porto fino a 5 metri e continua la nostra marcia di avvicinamento a quelle che sono le elezioni amministrative che ci saranno questa prossima domenica domenica 12 giugno per tre comuni della nostra provincia di Pesaro Urbino chiamati a eleggere il loro sindaco oggi ci occupiamo di terre roveresche andando a conoscere la candidatura di Sauro Marcucci che è lo sfidante del sindaco in carica Antonio Sebastianelli i punti salienti in realtà sono quattro punti fondamentali su cui poi si staglia tutto il programma dove si basa tutto il programma e sono diciamo quattro parole ma quattro parole importanti e fondamentali che sono la rigenerazione perché noi abbiamo bisogno di una nuova vita un nuovo dinamismo nei nostri paesi che si è un po' perduto la prossimità perché la prossimità è necessaria per andare a portare i servizi vicino al cittadino vicino alle comunità e la fusione non deve essere un qualche cosa che toglie i servizi alla comunità ma anzi li potenzia e li migliora l'autenticità l'altro fondamento del nostro programma che è un modo di essere e un modo di fare rispetto alle cose rispetto alle emergenze rispetto ai progetti rispetto al futuro di questi comuni e l'autenticità come anche strumento di condivisione di tutte le peculiarità che il territorio ha e può metterlo insieme agli altri quarto fondamento è la cura della persona la cura della persona che è l'interesse del nostro agire il centro del nostro agire cioè tutti i tre fondamentali di prima tutti i tre fondamenti di prima che sono la rigenerazione la prossimità e l'autenticità hanno un senso hanno un valore se sono finalizzati alla cura della persona diversamente sono opere sono strutture infrastrutture che sono fredde non hanno l'utilità per cui vengono realizzate ecco la cura della persona è l'interesse del nostro agire quindi tutto ruota attorno a questo quattro punti su cui si è focalizzata una candidatura che vanno a guardare a un modo diverso rispetto a quella che è stata la gestione di questi cardini per quanto riguarda i cinque anni appena trascorsi beh sì un modo diverso direi di sì ovviamente le persone sono diverse il gruppo è diverso abbiamo lavorato attorno a un programma che è un programma inclusivo che è un programma che abbraccia tutte le comunità e vogliamo dare proprio questo senso di serenità di tranquillità e di possibilità per tutti di contribuire alla crescita alla crescita di questo comune e di queste comunità nello specifico per cui ecco noi vogliamo veramente fare un appello anche in qualche modo alle persone che al di là poi di quelli che saranno i risultati ma si mettano in moto si mettano in moto con un nuovo dinamismo all'interno delle comunità per renderle veramente più vive ecco qualora fossimo eletti come amministrazione noi ci saremo gli saremo a fianco e anzi cercheremo insieme di costruire questo futuro oggi la fondazione ANT associazione nazionale tumori ha organizzato una cerimonia per intitolare l'ambulatorio della prevenzione a Sabino Palma delegato della fondazione a Pesaro a poco più di un anno dalla sua scomparsa alla celebrazione era presente anche il nuovo vescovo di Pesaro il monsignor Sandro Salvucci ma vediamo i dettagli in questo servizio di Edoardo Orazzi quando le persone sono generose dalla tragedia nascono grandissimi gesti di solidarietà e Sabino Palma ha saputo dare tantissimo nella vita e noi vogliamo insieme a sua moglie e ai suoi nipoti ricordarlo oggi intitolando l'ambulatorio della prevenzione di fondazione ANT a Sabino Palma che è stato nostro delegato qui a Pesaro purtroppo il covid ha portato tantissime tragedie anche questa ma fondazione ANT ha saputo andare avanti i nostri medici i nostri infermieri i nostri psicologi hanno continuato anche durante il periodo di covid a portare assistenza e aiuto alle persone questo ambulatorio è fondamentale per due motivi uno perché in questo ambulatorio noi mettiamo i PIC i cateteri venosi centrali per i nostri pazienti oltre a metterli naturalmente a domicilio ma facciamo anche prevenzione io vorrei lanciare un appello oggi insieme ad Anna l'ambulatorio ce l'abbiamo l'abbiamo intitolato a Sabino Palma ma se vogliamo ancora ricordarlo con questo spirito di solidarietà con cui parlavo prima noi abbiamo bisogno di un nuovo ecografo un nuovo ecografo che ci può servire appunto per fare prevenzione e per inserire i PIC quindi dobbiamo sempre guardare avanti perché la solidarietà è la risposta al richiamo della sofferenza io credo che una realtà come quella che viviamo qui oggi un centro dell'ant quindi che rappresenta un'eccellenza nell'assistenza domiciliare a persone che vivono una condizione di malattia grave spesso terminale ci dice una cosa importantissima che quando una persona è ammalata e magari anche la diagnosi è in fausta quindi insomma una malattia che può condurre nel tempo più o meno breve più o meno lungo anche alla morte quello che davvero è essenziale e importante è dire alla persona che vive la malattia e ai suoi familiari la vicinanza con gesti concreti fatta di cure mediche sanitarie specialistiche ma fatta soprattutto di umanità di presenza credo che la malattia è una fase così delicata della persona e questa fase così delicata la può affrontare se sa di non essere sola se sa che c'è qualcuno che si prende cura di lui di lei e che questo prendersi cura non è vissuto come un peso come un fastidio cioè il malato deve potersi sentire davvero al centro dell'attenzione le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono ai lavori a Villa Fastigi per la nuova cittadella dello sport in questa che è la prima settimana di partenza del cantiere atteso da due anni dalla Vispesaro la società calcistica trasferirà infatti qui sede luoghi di allenamento i lavori prevedono due nuovi campi di calcio a 11 uno di calcio a 5 coperto e dotato di tribuna due di paddol scoperti e uno al coperto una palestra un'area ristoro spogliatoi nuovi uffici sala conferenze ambulatorio medico bar e ristorante il tutto costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico sabato 11 giugno sarà il concerto Cicale nel parco dedicato al compianto Alex Eusepi a chiudere i sei mesi di Quintus ovvero i sei mesi di iniziative ideate dal quartiere Vismara Cattabrighe Torraccia Tre Ponti Roncaglia vincitore del secondo bando capoluogo della cultura lanciato dal comune proprio in questo stesso ambito di Pesaro capitale della cultura 2024 quello di sabato sarà un festival di musica dedicato ad Alex vigile del fuoco consigliere di quartiere e vice presidente dell'associazione periferica che vedrà esibirsi nel parco di via Basento dalle ore 20 e 30 le band Surreal Sound Project Turisti Eighth Dimension e Crema Nel telegiornale di ieri invece vi abbiamo presentato il concerto della band americana Dinosaur Junior previsto questa sera a Pesaro ma avvisiamo i possessori di biglietto che il concerto è stato spostato dal parco Miralfiore al teatro sperimentale a causa delle incerte condizioni meteo il concerto vi ricordiamo inizierà questa sera alle ore 21 da domani 8 giugno torna a Fano il mercoledì degli artisti dopo il successo dello scorso anno la Kermess fanese offrirà per questa edizione sei palcoscenici che fino a settembre daranno vita ogni mercoledì a spettacoli musicali di ogni genere si tratta di un'iniziativa coordinata dall'orchestra sinfonica Rossini e che vedrà coinvolti i locali Bardan Bar La Degusteria 20.9 Caffè Ideale Food & More Senza Tempo Live Music Club e il ristorante La Mandria ed ora torniamo a Pesaro continuiamo però a parlare di eventi perché dopo il successo dello scorso anno riparte per la seconda edizione Cali City l'estate in un sorso il festival enogastronomico in via Passeri dedicato alle cantine della provincia di Pesaro Urbino e alle piccole specialità preparate dai punti di ristoro presenti nella via vediamo quindi in questo prossimo servizio il programma ma anche le interviste Quest'anno rispetto alla prima edizione abbiamo due cantine in più siamo arrivati a 21 cantine i piccoli errori commessi nella prima edizione abbiamo cercato di smussarli invitiamo tutte le persone che hanno voglia di venire da noi a gustare le valibatezze sia enogastronomiche che del vino della nostra provincia li invitiamo sabato con la seconda edizione del Cali City in via Passeri Novità? Le novità oltre al il convegno sull'enoturismo e sull'accoglienza dentro le cantine abbiamo il conservatorio Rossini che suonerà per noi alle 20 vicino al museo al museo Rossini si potrà entrare con un ticket di 3 euro rispetto al solito prezzo che si paga per entrare dentro il museo poi avremo il concerto poi avremo gli otto locali che ci faranno gustare le loro prelibatezze col finger food e poi il resto la gioia la fa la gente l'anno scorso abbiamo visto persone che sono entrate con un dubbio e sono uscite con un gran sorriso perché comunque al prezzo cui diamo noi hanno potuto gustare ben 4 calici di vino un progetto nato l'anno scorso nato in tempi anche di pandemia con Sima Riviera Banca nell'idea di essere sempre più vicini ai produttori del territorio soprattutto quando è stato pensato era un momento anche molto difficile perché con la ristorazione ferma e con tutti i canali insomma c'era la difficoltà di vendere c'era anche la difficoltà di vedere proprio un orizzonte chiaro rispetto alle prospettive sarà anche un momento di approfondimento con la partecipazione anche all'interno del museo Rossini di Palazzo Antalli di un momento anche di approfondimento sul tema del vino quindi anche un convegno e soprattutto dalle 18 la possibilità di degustare tutti i vini della nostra provincia Riviera Banca è una banca del territorio e come banca del territorio è molto legata molto radicata e opera non soltanto per attività bancaria vera e propria ma per un'attività sociale culturale di prevenzione e cura della salute di valorizzazione dei territori questo è proprio un modo per valorizzare il nostro territorio e per rappresentare una spinta un sostegno un incentivo a ripartire a fare a crescere quest'anno ci sarà anche appunto Cali City Week la possibilità anche le attività del centro storico dopo la serata di Cali City dell'11 potranno far assaggiare presso le loro attività il vino delle nostre cantine questo è un modo di fare economia circolare non finirò mai di dirlo chilometro zero e filiera corta quindi obiettivo raggiunto sono contenta mi raccomando non mancate l'11 sabato a Cali City ed ora ci spostiamo a Gradara per parlare della mostra Gradara Contemporanea pronta la sua seconda edizione a partire da venerdì 10 giugno Gradara Contemporanea è la seconda manifestazione che facciamo nel borgo di Gradara appunto dal titolo si capisce che è una manifestazione di arte contemporanea e quest'anno a differenza dello scorso anno abbiamo anche una sede prestigiosa che il comune ci ha concesso che è Palazzo Rubini Vesin dove appunto esporremo le opere principali della mostra e come lo scorso anno sarà una mostra diffusa nel borgo e quindi oltre a Palazzo Rubini Vesin avremo un'altra sede al conventino di Gradara e anche nella suggestiva chiesa del convento e poi a Emporio la loggia a differenza dello scorso anno quest'anno il taglio che abbiamo dato è internazionale e infatti l'opera che è nel manifesto di un'artista che si divide fra la Corea e Londra e che ha fatto mostre anche importanti musei e gallerie prestigiose perché appunto memori del successo dell'anno scorso abbiamo voluto alzare ancora di più il livello per far sì che Gradara sia ancora più attrattiva per i visitatori importante importante sottolineare che anche per quest'anno manteniamo la gratuità della mostra nonostante l'alto livello delle opere che esponiamo e questo è possibile grazie al contributo grandissimo che ci dà sempre il Comune come sale di allestimento e la Regione e la Provincia con il supporto che ci sta dando in questi due anni seconda edizione di Gradara Contemporanea ci tengo prima di tutto a ringraziare Matteo e Fabrizio i co-fondatori di questa iniziativa importante che lega il nostro territorio il nostro borgo storico all'arte contemporanea un connubio che è partito diversi anni fa proprio dal Comune con Gradara Nova la nostra partecipata con il Presidente Andrea De Caccentini che all'epoca ideò e realizzò diverse mostre dedicate ad artisti contemporanei Picasso Dalì Rosenberg fino ad arrivare a questo connubio a questo soldalizio intellettuale ma anche sentimentale con Elio Ferrucci l'importante stilista e innovatore quindi per noi è un percorso già avviato e siamo contenti di rafforzarlo di continuare verso nuove direzioni in questa collaborazione che non solo quindi offre questa dicotomia antico e contemporaneo ma anche pubblico e privato perché il Comune in questo caso collabora come può dando gli spazi e il supporto logistico a questa iniziativa che è privata siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale carissimi amici che ci guardate tutte le sere continuate a restare collegati sul canale 80 perché questa sera ci sarà una nuova puntata di qua la zampa questa seconda edizione un grandissimo approfondimento alle 21 e 20 con tante notizie che riguardano i nostri carissimi amici animali e poi vi ricordiamo che l'informazione su Rossini TV torna domani mattina con la nostra rassegna stampa siamo in diretta sia canale 80 sia facebook alle ore 7 e 20 grazie per averci seguito anche questa sera buon proseguimento di serata